Il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma delle professioni accogliendo parte delle osservazioni del Consiglio di Stato e del Parlamento. Un risultato che Alessandro Solidoro, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, accoglie con una certa soddisfazione. La riforma delle professioni rappresenta prima di tutto il successo di un'idea, cioè il successo dell'idea che le professioni assieme possono esprimere una voce unitaria pur nella differenza dei singoli lavori, dei singoli mestieri e quindi delle singole esigenze concrete. Solidoro sottolinea l'importanza della manifestazione di tutti i professionisti lo scorso gennaio, quindi entra nel merito della valutazione del proprio ordine. La nostra valutazione è che in realtà la riforma fotografa per molti aspetti quella che è già la nostra condizione di svolgimento delle attività sulla base di quella che è la nostra legge istitutiva. In particolare, il Presidente dei Commercialisti milanesi parla del tema della formazione, su cui l'ordine punta da tempo. Venendo però ai possibili risvolti positivi dal punto di vista della ripresa economica legati alla riforma, Solidoro invita nuovi sforzi. Ciò che potrà effettivamente spostare i giovani alle professioni, in particolare alle nostre, sarà la possibilità di fare un lavoro che venga svolto in condizioni di razionalità e di serenità. In questa riforma non c'è, non è questo il luogo, questo è l'impegno invece che dobbiamo assumere tutti nei confronti dei giovani, anche di chi giovane non è, ma si trova a dover fare le attività in condizioni talvolta inutilmente difficili.